buongiorno a tutti e benvenuti a questo video tutorial per le supplenze dei docenti inseriti in gae o in gps per l'anno scolastico 2022 2023 entrando nella pagina nell'home page del sito del ministero dell'istruzione sugli approfondimenti troverete questa icona cioè supplenze docenti 2022 2023 e facendo clic su questa icona entrerete in un area che è dedicata in una piattaforma che è dedicata alle supplenze docenti 2022 2023 in quest'area si faranno le scelte opportune per gli insegnamenti e le preferenze di sede puntuale o sintetica dunque ci saranno delle scelte da fare sulle sedi puntuali riferite alle scuole e sintetiche riferite a comuni e distretti per le supplenze dell'anno scolastico 2022 2023 e per l'inserimento in ruolo gps prima fascia posti di sostegno l'istanza come vedete scritto è un'istanza di informatizzazione per le nomine delle supplenze allora per poter entrare a nell'istanza si fa o accedi all'istanza con questo tasto in basso oppure accedi all'istanza con il tasto in alto facendo accedi si entra su una pagina dove viene data l'informativa per le nomine le supplenze e i dati e la cura dei dati personali un'informativa sul trattamento dei dati personali facendo ancora accedi e dunque andando avanti con la procedura si entra in una pagina in cui vengono elencate le domande possibili da fare in questo caso è una domanda riferita alla provincia di reggio calabria per le gradatorie a 0 41 0 40 0 60 a 0 47 a 0 37 e sostegno scuole medie e sostegno per le scuole superiori per quanto riguarda le gradatorie di sostegno si può essere inseriti in gradatorie dunque legittimamente assunti a tempo determinato da queste gradatorie ma se non si è inseriti si può fare la richiesta dei posti di sostegno come per essere diciamo nominati da gradatoria incrociata facendo accedi da con questo tasto si entra nella procedura con tutti i dati personali una volta facendo avanti si entrerà su sul modello di presentazione della domanda allora abbiamo diverse aree abbiamo innanzitutto quella degli insegnamenti che consiglierei andare a vedere per eventualmente modificare o aggiungere un insegnamento 4 qualora mancasse in tal caso però la sezione completa perché come vedete ci sono tutti gli insegnamenti che avevamo citato con l'inclusione a pieno titolo vedete questa colonna dice se il candidato l'aspirante la supplenza è incluso con riserva o meno e in tal caso abbiamo un'inclusione a tutti gli effetti in questa colonna se si dovesse rinunciare a qualche classe di concorso come vedete per quanto riguarda il sostegno della scuola secondaria di primo grado è una gps incrociata perché in questo caso l'aspirante non è inserito nelle gradatorie del sostegno e la stessa cosa per il secondo grado per cui compilata questa sezione così come vedete potete procedere con altra sezione per esempio molto importante per le supplenzi di carattere annuale o fino al termine delle attività didattiche e questa azione disponibile qua espressione delle preferenze delle supplenze annuali fino al termine o annuali o fino al termine delle attività didattiche facendo azione disponibile con questo tasto si va così in a andiamo in questa pagina che è dedicata all'inserimento delle preferenze come si aggiunge una preferenza su questa pagina ecco facciamo vedere l'aggiunta di una preferenza allora si fa si va in aggiungi una preferenza compare questo form si deve scegliere l'insegnamento che è cosa prioritaria per esempio se il l'aspirante vuole insegnare la 0 41 come prima istanza deve segnare a 0 41 e poi dire specificare il tipo di preferenza che vuole abbiamo tre tipologie di preferenza o di scuola o di comune o di distretto per esempio vediamo come si inserisce una scuola si indica dall'elenco scuola ecco che si apre qui il comune della scuola che si vuole scegliere eventualmente o il codice meccanografico la descrizione della scuola per ricercare vediamo un attimino per esempio di individuare una scuola sul comune di reggio calabria dire liceo scientifico ad esempio e dunque scrivere liceo scientifico e con una ricerca andando a ricercare verranno tutti i licei scientifici del comune di reggio calabria che in particolar modo sono due si selezionano secondo un ordine una alla volta ecco per esempio prima il vinci e si fa seleziona e compare immediatamente la scuola indicata dove sarà possibile già spuntato il tipo di contratto annuale si può contemporaneamente dire anche di indicare quello fino al termine di attività didattiche perché oppure anche un semplice spezzone queste tre tipologie possono andare tutte e tre insieme se si indica lo spezzone si dovrà dire dal minimo al massimo per esempio da un minimo di 7 ore perché il minimo possibile a un massimo di 17 ecco che così comparirà questo spezzone attenzione perché il sistema se c'è uno spezzone al liceo scientifico da vinci di reggio calabria vedete qui la preferenza della scuola questo è il codice del da vinci di reggio calabria si ferma e vi darà uno spezzone non proseguirà oltre per cercare altre preferenze che aggiungerete per cui non è consigliabile mettere in una scuola tutte e tre queste opzioni si consiglia alquanto meno lo spezzone di non metterlo potreste anche non mettere fino al termine di attività didattiche fare lavorare la macchina solo sulle annuali o al massimo fino al termine di attività didattiche e poi dire se la se volete la cattedra oraria sullo stesso comune o orario su diverso comune oppure no se selezionate questa dunque la macchina andrà a trovare un annuale anche con cattedra orario esterne ma sullo stesso comune se indicherete questa troverà sia cattedra orario sullo stesso comune e cattedra orario sul comune diverso dunque un completamento su altro comune si può anche non selezionare niente e lasciare che la macchina lavori così e si aggiunge quindi la preferenza si lascia così si può aggiungere una seconda preferenza per esempio sempre in al 0 41 per esempio questa volta di comune e scegliere il comune tra tutti i comuni per esempio quello di reggio calabria andando a scegliere reggio calabria si inserisce si seleziona il comune reggio calabria dunque per le annuali per le annuali poi si può proseguire con per esempio altri comuni per esempio il comune di villa san giovanni che è il limitro fa a reggio calabria che dunque è una delle ultime anzi proprio l'ultima villa san giovanni si seleziona e darà tutte le annuali a villa san giovanni poi si potrebbe anche ritornare su reggio calabria e chiedere quelle fino al termine delle attività di dati che è sempre in al 0 41 ecco per esempio al 0 41 comune reggio calabria e dunque si ripropone reggio calabria e stavolta però gli si dà non le annuali tolgo l'annuale perché l'avevo già fatto fino al termine le attività didattiche spuntando togliendo l'annualità dunque faccio salire prima fino al termine le attività didattiche perché la macchina prima lavorerà sull'annuale del vinci poi lavorerà su tutte le scuole del comune reggio calabria ma con contratto tipo annuale poi lavorerà con contratto tipo annuale sul comune limitro fa a reggio calabria villa san giovanni poi ritornerà su reggio calabria ma per trovare quelle fino al termine le attività didattiche poi potrei aggiungere per esempio una quinta preferenza sempre di comune e dirgli comune sempre di villa san giovanni ma ad esempio selezionandolo non voglio un annuale a villa san giovanni che già diciamo avevo messo qui ma fino al termine delle attività didattiche e dunque avrei questa preferenza e continuando così potrei allargare le preferenze e dunque compilare tutte le preferenze su prese annuale fino al termine le attività didattiche ed eventualmente anche degli spezzoni speriamo che questo tipo di video tutorial sia utile ai nostri telespettatori e ne faremo anche altri specificando con altre questioni sulle preferenze sulla scelta delle preferenze e anche sull'inserimento in ruolo da prima faccia gps sostegno seguiteci nei nostri canali social facebook e youtube seguite le nostre dirette e seguite anche il nostro sito www.tecnicadellascuola.it vi terremo informati su tutta la questione che riguarda le gps e la compilazione della domanda arrivederci alla prossima volta grazie a tutti